Musica Hanno due minuti di vantaggio sul gruppo Bravi, bravi Ultimo giro Ultimo giro Ed eccomi, ed eccomi laggiù Un grosso applauso mi raccomando e io faccio Musica 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 Pierino Niggirolamo in rappresentanza del gruppo sportivo Oratino, società che organizza la prima gara del trittico del Molise, prima tappa in archivio, bilancio sicuramente positivo. Musica 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 che è stato voluto da queste tre società, veramente c'era prima un'altra società, il gruppo ciclistico di Bonefro, poi è subentrato alla ciclistica molisana e da un po' di anni, diciamo 12 anni, abbiamo scelto questa formula perché purtroppo qui i ciclisti non ne abbiamo e quindi il modo per far venire un po' di gente è questo. Abbiamo un montepremio finale, una classifica finale e le squadre che vengono sono un po' influenzate anche da questo nostro montepremio perché purtroppo qui le distanze sono quelle che sono e diamo anche il rimborso e questo insomma. Un trittico che è sicuramente un momento di confronto a livello sportivo ma anche uno spot per la nostra regione. Sì, diciamo di sì, infatti le società che sono venute qui, diciamo dalla Sicilia fino alla Lombardia, magari qualcuno che stava in ferie qui, ci hanno dimostrato e ci apprezzano per l'organizzazione. Scusate se ci mandiamo anche un po' con noi perché trovare un'organizzazione come questa del trittico è difficile trovarla in giro. L'unica pecca, la pecca è quella che purtroppo per organizzare ci stanno dando un sacco di fastidi. Non ci aiutano, vi devo dire la verità. Abbiamo avuto la corsa di Oratina autorizzata all'ultimo momento il sabato, abbiamo avuto la corsa di Boiano autorizzata all'ultimo momento venerdì. Loro sono stati fortunati, noi a Oratina siamo stati un po' più sfortunati perché abbiamo rischiato di far venire le squadre dalla Sicilia e poi dopo non si poteva godere. Questo è un peccato. Le istituzioni devono vedere cosa devono fare insieme alla federazione. Soprattutto la federazione ci deve aiutare in questo perché noi interloquire con le amministrazioni locali lo possiamo fare fino a un certo punto ma se la federazione nazionale non prende dei dovuti contatti con le amministrazioni locali sinceramente ci cadono le braccia. Nicola Forte, Gessi Molise ricambi in prima linea per il 25esimo Memorial Priolo torna un grande evento ciclistico in Molise. Sì, finalmente nel 2022 dopo un paio di anni di stop siamo riusciti con tante difficoltà e tanto impegno a realizzare questo 25esimo Memorial. Pertanto siamo riusciti a fare il quarto di secolo, siamo molto soddisfatti. Insomma tutta la squadra ha lavorato per far sì che si potesse raggiungere questo obiettivo e siamo molto fieri di questo. Quindi il Presidente, Ritota Carlo, i collaboratori, Celestino, Pierino, Mauro, Paolo e tutti quelli che nel tempo ci hanno sempre spalleggiato ci continuano a stare vicini e grazie a tutti quanti loro e a tutti quanti noi siamo riusciti a fare questo ottimo risultato. Un trittico che mette in bella mostra molti talenti delle due ruote, tre gare tutti difficili ma belle allo stesso tempo. Sì, il trittico quest'anno è un pochino più variegato in quanto Boiano ha abbandonato il percorso storico per fare un percorso un pochino più piatto però diciamo allungando sui chilometri, aumentando di un giro e insomma facendo qualche accorgimento sul percorso nonostante sia cambiato è comunque un bel percorso abbastanza complesso che può dar fastidio ai ragazzi e fare in modo che insomma di a carattere alla gara e al trittico in sé. Un evento che calamiterà l'attenzione di molti appassionati purtroppo però la nostra regione non esprime molto da questo punto di vista. Sì, è diciamo uno sport che non è dei più seguiti però ci sono gli appassionati che da tanto tempo insomma lo stesso Antonio Tamburi, oggi direttore di corsa Massimo Pisani che ci accompagna da tanto tempo ma lo stesso Gaetano Rossi che è un uomo che diciamo nel ciclismo da moltissimi anni continuano con questa loro insomma passione e fanno in modo che anche qualcuno più giovane come me o come i nostri collaboratori continuano ad appassionarsi a fare in modo che ciò possa avvenire e praticare anche questo sport in regione. Purtroppo non ci sono i ragazzi, questo è un rammarico, una pecca una cosa che insomma nell'ultimo periodo, negli ultimi anni ci dà un po' di dispiacere perché non riusciamo a coinvolgere nonostante facciamo delle azioni in scuole tra i genitori e da diverse altre parti però insomma è un pochino difficile. Leonardo Consolitani del team Coratti a Boiano Memorial Priolo con la maglia di leader del dodicesimo trittico del Molise una grande vittoria per te adoratino. Sì, è stata sicuramente una bellissima vittoria quella adoratino su un percorso che sicuramente si addiceva alle mie caratteristiche. Adesso, diciamo, le aspettative quali sono per il futuro? Allora, parlando direttamente del trittico molisano sicuramente si punterà a far bene le prossime due tappe questa sicuramente sarà più una tappa di controllo soprattutto per la classifica dato che non è un percorso che mi si addice più di tanto mentre la prossima tappa, quindi l'ultima sarà sicuramente una tappa d'attacco perché mi è stato detto che sarà un percorso abbastanza duro. Per quanto riguarda la tua stagione in generale fino a questo momento che bilancio puoi fare? Allora, una buona prima parte di stagione purtroppo interrotta quasi subito da una brutta caduta che mi ha tenuto fermo più di un mese da subito dopo la caduta, quindi diciamo da inizio giugno devo dire una stagione buona e soprattutto molto costante. Ecco, come squadra invece quali i programmi, quali gli obiettivi e le ambizioni da qui in avanti? Allora, sicuramente correrò la prossima stagione sempre con questa squadra, con la Coratti gli obiettivi sono quelli di sempre quelli di fare il meglio possibile e di divertirsi. Mattiero Topichetti per quanto riguarda la tua stagione come la giudichi fino a questo momento? La giudico una buona stagione comunque la uso molto per crescere perché non è molto che ho iniziato e anche essere campione regionale mi ha dato una motivazione in più quindi è una buona stagione secondo me. Categoria allievi si cresce e si migliora di gara in gara di allenamento in allenamento quali i tuoi sogni nel cassetto? Ma sicuramente adesso e sono allievo di secondo anno quindi l'anno prossimo passerò juniores però adesso voglio ancora continuare a divertirmi e se c'è qualcosa di più importante ci guarderemo più avanti. Emilia Romagna terra di campioni sulle due ruote mi viene in mente Marco Pantani il sogno magari è ripercorrere le sue orme. Sì, Marco Pantani è un mito da noi abitava non molto lontano da dove siamo noi quindi sì, sarebbe un sogno. Celeste di Re storico direttore sportivo del gruppo Molise Ricambi dopo due anni di stop torna il venticinquesimo Memorial Priolo sicuramente sensazioni bellissime. Sì, finalmente, finalmente siamo contentissimi per quanto riguarda anche la partecipazione da parte di tutte quante le squadre quest'anno abbiamo un bel parterre veramente di corritori importanti come dicevi tu sono stati due anni duri per motivi che tutti quanti sappiamo finalmente quest'anno ripartiamo speriamo di ripartire alla grande con il venticinquesimo Memorial all'appunto Priolo Una gara che promette spettacolo sicuramente nel trittico una delle più belle Assolutamente le gare sono belle tutte e tre con caratteristiche diverse chiaramente questa di Boiano è un po' più sentita perché è Oscar tutto bici quindi anche da parte delle società diciamo che è un po' più sentita come molti sanno abbiamo per forza di cose quest'anno dovuto cambiare il percorso però a sentire i direttori sportivi delle varie squadre sembra che è gradito un po' a tutti quanti questo cambiamento di percorso Difficile sicuramente fare meglio nel corso degli anni avete gettato le basi per un grande Memorial Priolo c'è però qualcosa che si può ancora migliorare a tuo avviso? Guarda c'è sempre da migliorare nessuno è perfetto noi nel corso degli anni abbiamo cercato di organizzare al top questa manifestazione e infatti le iscrizioni e i partenti ci danno ragione però ripeto c'è sempre da migliorare assolutamente non siamo perfetti assolutamente spero che tutto vada bene che i ragazzi rimangano contenti e che riescono a una bella manifestazione senza incidenti e senza nulla da recriminare dopo Gianluca Maffi direttore sportivo della Fiumicinese in Molise per il 25esimo Memorial Priolo una manifestazione alla quale siete particolarmente affezionati Sì negli ultimi anni diciamo dal 2017 da quando sono entrato io in questa società siamo sempre venuti a parte di due anni un po' bui 2020-2021 e abbiamo sempre trovato un'ottima accoglienza un'ottima ospitalità e quindi riteniamo giusto una volta all'anno fare una grande trasferta che per noi insomma sono 5 ore quasi di macchina però veniamo volentieri a trovare gli amici del Moligeri Cambi e l'amico Carlo e tutti quelli che fanno parte del suo entourage Una squadra di qualità la tua tanti giovani promettenti il Memorial Priolo sicuramente un trampolino di rancio per proseguire poi la stagione al meglio Faremo tutto il mese di settembre tutte gare valide per l'Oscar Tutobici che riguardano diciamo tutta la parte nord dell'Italia e la squadra quest'anno ci sta dando con la sua soddisfazione 11 vittorie con 5 elementi diversi chiaramente la fa un po' da padrone San Binello con 7 vittorie però insomma abbiamo portato 10 corridori ad avere almeno un punto in classifica nazionale e non è facile anche perché abbiamo 20 ragazzi questo ci tengo a precisare Categoria allievi è una categoria che funge diciamo da lancio anche per il futuro e magari vedere qualche ragazzo spiccare il volo tra i professionisti Sì esatto noi st'altro anno ne passeranno 12 nella categoria superiore un ragazzino ha deciso di smettere gli altri 11 sono già tutti sistemati anche in squadre di livello alto alto e quindi diciamo che sicuramente l'anno prossimo cambieremo tanto noi come squadra perché insomma andando via 12 ragazzi non è poco però sicuramente a loro gli si aprirà un mondo nuovo ma molto molto interessante quello juniore Matteo Conte del team il Pirata Official squadra quasi al completo a Boiano per il Memorial Priolo una gara nella quale cerchete di ottenere grandi risultati cercheremo di dare il meglio di noi sempre come protagonisti come sempre avete gareggiato un po' in tutta Italia e non solo come squadra il bilancio finora del vostro cammino com'è? Positivo fino adesso abbiamo vinto 16 gare abbiamo vinto quasi tutti una gara ci siamo fatti valere anche nel campione italiano quest'anno purtroppo non portando la maglia a casa ma da protagonisti Trittico del Molise sicuramente gare belle ma allo stesso tempo impegnative Sì vediamo com'è abbiamo visto che il percorso da l'anno scorso è cambiato e vediamo come va Molise come avete trovato l'accoglienza? Persone in ospedalità abbastanza elevata e vediamo come va l'accoglienza 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 l'accoglienza